San Francesco di Sales San Francesco di Sales San Francesco di Sales Patrono degli scrittori e dei giornalisti Vengo a te con umiltà e fiducia Cercando la tua intercessione Tu che fosti un maestro nell'arte della comunicazione Comprendi profondamente le sfide e le gioie di chi vive di creazione e comunicazione Ti chiedo di benedire le mie attività Concedendomi successo finanziario e ricchezze che mi permettano di vivere dignitosamente e con generosità Che la mia creatività sia un canale di benedizioni e prosperità O San Francesco di Sales Aiutami a trovare ispirazione e chiarezza nelle mie idee Che io possa esprimermi con eloquenza e verità Toccando i cuori e le menti di tutti coloro che interagiranno con il mio lavoro Che la mia scrittura e comunicazione siano sempre guidate dall'onestà e dal desiderio di promuovere il bene Concedimi la grazia di usare i miei talenti per illuminare il mondo Portando luce e speranza a tutti coloro che mi circondano Ti chiedo, San Francesco, di guidarmi nelle decisioni importanti della mia carriera Che io possa discernere le migliori opportunità e agire con saggezza e coraggio Aiutami a superare gli ostacoli che possono sorgere Fortificandomi con la tua protezione e ispirazione Che la mia dedizione e impegno siano ricompensati con successo finanziario Permettendomi di raggiungere una vita prospera e piena di realizzazioni Che io possa condividere le mie benedizioni con generosità e gratitudine San Francesco di Sales, intercedi per me affinché io possa mantenere sempre l'integrità e l'etica nel mio lavoro Che il mio successo finanziario sia frutto di impegno onesto e dedizione Riflettendo la giustizia e l'amore di Dio Che io possa essere un esempio di professionalità ed eccellenza Ispirando gli altri a perseguire i loro sogni con determinazione e fede Che le mie parole e azioni siano sempre una testimonianza della bontà divina Ti ringrazio, San Francesco di Sales, per la tua intercessione e il tuo costante sostegno So che con il tuo aiuto potrò raggiungere i miei obiettivi e vivere una vita piena e prospera Che la grazia di Dio sia sempre con me, guidandomi e fortificandomi in ogni passo del mio cammino Che il mio lavoro sia una fonte di benedizioni per me e per tutti coloro che ne beneficeranno Amen Caro San Francesco di Sales, vengo a te con un cuore pieno di speranza e fede Come patrono degli scrittori e dei giornalisti, comprendi le sfide e le gioie delle attività creative e comunicative Ti chiedo di intercedere per me, affinché possa raggiungere successo finanziario e ricchezze nelle mie imprese Che la mia creatività e comunicazione siano benedette e fruttuose, portandomi prosperità e riconoscimento San Francesco, concedimi la saggezza per prendere le migliori decisioni e il coraggio per affrontare le sfide che si presenteranno Che io possa usare i miei talenti in modo produttivo ed efficace, raggiungendo i miei obiettivi con determinazione e fede Che il mio lavoro sia una fonte di ispirazione e speranza per gli altri, riflettendo la bontà e la verità di Dio Aiutami a rimanere concentrato e motivato, anche nelle difficoltà Ti chiedo, San Francesco di Sales, di benedire tutte le mie attività creative e comunicative Che esse siano riconosciute e apprezzate, portandomi successo finanziario e ricchezze che mi permettano di vivere con dignità e generosità Che io possa usare le mie benedizioni per aiutare gli altri e promuovere il bene Ispirami a essere un messaggero di pace e verità, utilizzando le mie abilità per il bene comune San Francesco, tu che fosti un grande scrittore e comunicatore, guidami nel mio percorso creativo e comunicativo Aiutami a trovare le parole giuste e le idee che toccheranno il cuore delle persone Che il mio lavoro sia una luce che illumini il cammino degli altri, portando gioia e ispirazione Concedimi la perseveranza necessaria per continuare ad avanzare, anche di fronte alle difficoltà, sapendo che tu sei con me Ti ringrazio, San Francesco di Sales, per la tua intercessione e protezione Confido nella tua guida e so che con il tuo aiuto potrò raggiungere i miei obiettivi Che la grazia di Dio sia sempre con me, fortificandomi e guidandomi in ogni passo Che il mio lavoro rifletta la bellezza e la verità di Dio, portandomi successo finanziario e ricchezze Amen Ringrazio tutti per essersi uniti a me in questa preghiera a San Francesco di Sales Che possiamo continuare a cercare la sua intercessione nelle nostre vite Confidando che ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi e a prosperare nelle nostre attività creative e comunicative Se questa preghiera ha toccato il vostro cuore, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Lasciare un like e condividere questo video con i vostri amici e familiari Lasciate anche le vostre intenzioni e domande nei commenti Affinché possiamo continuare a pregare insieme come comunità di fede Che Dio benedica tutti voi e che San Francesco di Sales ci guidi sempre Amen Grazie a tutti Grazie a tutti